Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castillo e benvenuti anche oggi in un nuovo video Oggi voglio parlarvi di un progetto che reputo davvero rivoluzionario E vi dico subito che ha raccolto in fase di apertura di prelancio già 400.000 dollari in USDT Quindi per farvi capire che è un progetto che ha tanta hype in questo momento Vi spiego perché questo sta succedendo Sappiamo che nell'ultimo anno Solana ha raggiunto percentuali assurde Tramite CoinMarketCap vediamo un più 700% nell'ultimo anno Nonostante quello che è successo in passato è un progetto che ha fatto davvero tanto E ha creato anche alcune meme coins che sono esplose E per questo ragazzi questo progetto di cui vi parlo oggi Sta creando un bridge tra DeFi di Ethereum e Solana Quindi questo davvero è una cosa che sarà fatta solo per la prima volta grazie a questo progetto E sicuramente questo token potrebbe avere un risvolto davvero positivo Adesso ragazzi iniziamo subito Però io non sono un consulente finanziario come al solito tengo a specificarlo Sono solo informazioni che vi sto portando Non sono consigli di natura finanziaria Investire in criptovaluta è rischioso Quindi prima di investire fate le vostre ricerche E parlando di investimento io investirò 300$ all'incirca in questo video Vi mostro come acquistare il token Perché credo che possa avere un ottimo risvolto Ci sarà nel terzo quarto di quest'anno anche il listing su uno dei DEX e CEX Ne parliamo più avanti Però adesso ragazzi davvero iniziamo L'ultimissima cosa O mi piace Basta un click il gioco è fatto per supportarmi E per guardare altri video del genere E se non siete iscritti assolutamente iscrivetevi al canale Perché oltre a portarvi notizie nel mondo cripto vi porto anche cripto gemme Che potrebbero davvero fare percentuali incredibili Quindi ragazzi il progetto si chiama Solana VM Ovviamente prende il nome da AVM Ethereum Virtual Machine E questo progetto in poche parole permette ragazzi di fare un bridge Tra i progetti della DeFi e di Ethereum Collegandoli alla blockchain di Solana E c'è un articolo qui Voglio leggervi alcune cose per farvi capire bene di cosa si tratta Così davvero riuscite a fondo a comprendere questo progetto Cosa vuole fare Perché è un progetto diverso rispetto agli altri che sono in circolazione E il token potrebbe avere un risvolto ripeto super super positivo Solana VM che sarebbe il progetto in questione Sta portando 68 miliardi di Ethereum Virtual Machine di app di valore a Solana Con la loro chain SVML2 Solana VM è un game changer progettato per colmare il divario tra la rete Ethereum consolidata e la blockchain Fulminia di Solana Immagina l'ecosistema di applicazioni decentralizzate attualmente bloccato sull'Ethereum Virtual Machine Del valore di oltre 68 miliardi di dollari accessibile senza soluzione di continuità su Solana Questo è il potere trasformativo della macchina virtuale Solana del progetto È tradotto tramite Google ragazzi per questo è tradotto abbastanza male Però per farvi capire che comunque quello che vogliono fare è un bridge E permetteranno quindi di sfruttare la velocità alle FIS basse di Solana Per collegare poi tutte queste DApps presenti con l'Ethereum Virtual Machine Spero di essermi spiegato in maniera più semplice possibile È un argomento un po' più complesso di questo Per farvi capire quanto è grande il progetto in questione Solana VM funge da ponte consentendo agli sviluppatori di spostare senza problemi Le loro applicazioni Ethereum esistenti su Solana Questo sblocca l'immenso potenziale dell'architettura di Solana Che vanta velocità come ho detto prima Solana può gestire migliaia di transazioni al secondo Rispetto al limite attuale di Ethereum che consente transazioni istantanee per gli utenti DeFi Commissioni più basse Solana riduce al minimo le commissioni di transazione Rendendo le applicazioni DeFi più convenienti per tutti Poi Solana VM non riguarda solo velocità e risparmio sulle transazioni È una situazione win-to-win sia per gli sviluppatori che per gli utenti Perché c'è una migrazione senza sforzo, interfaccia familiare e un ecosistema DeFi più inclusivo Ci sono vari articoli online ragazzi Se cercate il progetto Varie testate giornalistiche famose e importanti Che ne parlano Che stanno comunque diciamo portando al mondo quest'idea, questo progetto Perché è davvero super super interessante Quello che vogliono fare E vi ripeto ragazzi Se volete dare un'occhiata al progetto come al solito Tutti i link sono qui in basso in descrizione È un link affiliato Se fate l'acquisto tramite il mio link Mi supportate, dicevo una piccola commissione Però lo stesso, nonostante questo Io vado ad acquistare il progetto di testa mia Quindi collegherò il wallet Vi mostro come fare il tutto È davvero molto molto semplice In pratica ragazzi La fase di presello come funziona? Più il tempo passa ragazzi Più gli USD sono raccolti Più il prezzo del token che si acquista aumenta È molto semplice Quindi se adesso il token è 0.005 Al prossimo round Il token sarà di 0.006 Quindi significa che prima lo acquistate Prima ovviamente avrete più possibilità Poi di vendere a un prezzo migliore Quando il token sarà listato E farete più percentuali Possiamo selezionare diverse chains Vi consiglio ovviamente chains Che non siano Ethereum in questo momento Cioè Solano ovviamente Io ho collegato Torus Wallet In questo momento E andrò ad acquistare il token tramite BNB Ok ragazzi Ho selezionato la BNB Smart Chain Tramite Torus Wallet Come ben si vede qui in basso 300 USDT Che sono 300 dollari Quindi selezionerò massimo Così andrò ad acquistare 300 dollari Nel token SVM E ragazzi cosa è importantissima In questo momento Questo è l'amount dei token Che riceverò Se aspettassi il prossimo round Sarebbe un amount inferiore Ovviamente come ho già spiegato prima Per fare ciò ragazzi Visto che sto acquistando Sulla BNB Chain Bisogna ovviamente avere BNB nel portafogli Per pagare le gas fees Questo è l'errore che commettono spesso Le persone che mi contattano Perché non riescono ad acquistare Poi basta cliccare su Approve Mi si aprirà ovviamente Torus Wallet E basta cliccare su Conferma Così come ben si vede a destra La transazione è stata iniziata Dobbiamo aspettare che venga approvata il tutto E aspettiamo qui qualche secondo Per vedere se effettivamente la transazione va in porto La transazione in alto a destra ragazzi Eccola qui È stata approvata Quindi adesso che succede Ho acquistato il token Ma il token non lo trovo nel portafoglio Altra domanda che spesso vi viene fatta Ovviamente il token avrà un indirizzo Questo indirizzo verrà rilasciato al listing Che sia sul DEX oppure sul CEX E così questo indirizzo può essere incollato sul vostro wallet Ci sono vari tutorial online In cui spiegano nello specifico come fare il tutto E potrete in questo modo vedere i vostri token E l'amount disponibile Quindi per ora è normale non vedere ovviamente i token Quindi ragazzi cosa si può fare? C'è anche possibilità di mettere in staking il token E guadagnare interessi Questa qui è un po' la piattaforma Ci sono varie testate giornalistiche che ne parlano CryptoPotato, CoinMark, Cap e Zynga CryptoSlate, Investing.com Mi ha spiegato cos'è il progetto E questo sito devo dire che è fatto anche molto molto bene Devo essere sincero Quindi questo fa ben capire di cosa si tratta Ci sono anche diciamo le transazioni per secondo Del progetto di Solana Di Ethereum, di Binance Smart Chain Del progetto in questione Più di 5.000 transazioni per secondo FISA di 0.01 Quindi più economico ovviamente della Binance Smart Chain E sicuramente di Ethereum Quindi è molto importante anche guardare questi step Abbiamo anche la tokenomics qui del progetto Con 15% pre-sale 15% liquidità di checks e dex 15% team Poi 10% per la community 15% marketing Poi 30% ecosistema E Treasury per farlo crescere Un po' per lo sviluppo Ci sono anche i risultati dell'audit Che sarà fatta Quindi anche questo è importante C'è anche il white paper qui in basso Che si può consultare Ci sono i vari step qui Per vedere che succede nei prossimi mesi E nei prossimi quarti dell'anno E soprattutto anche vediamo Una sezione dedicata alle domande Dove potreste diciamo leggere un po' Le risposte E capire un po' Se ci sono problemi al riguardo Ma come al solito ragazzi Fatemi sapere qui in basso in descrizione Così vi aiuto a capire Se posso diciamo Eservi d'aiuto Se c'è qualche problema in particolare Cerco sempre di diciamo Rispondere Di aiutarvi in qualsiasi modo Detto questo vi ricordo Che il link qui in basso in descrizione Ragazzi Anche voi Una volta che collegate il wallet Acquistate il token eccetera Potrete generare un link affiliato Basta cliccare su referral Qui in alto a destra Il gioco è fatto E soprattutto Diciamo che Il progetto è davvero intuitivo Da capire Non c'è niente in particolare difficile E soprattutto ancora Il token in fase di pre-sale Ragazzi Più il tempo passa Più il prezzo del token aumenta Quindi se volete acquistarlo Vi consiglio di farlo il prima possibile Detto questo ragazzi Ciao a tutti Grazie mille per la visione Vi ricordo Un mi piace Basta un click Il gioco è fatto Se non siete iscritti Iscrivetevi al canale Per non perdere Scusatemi Nessun video Che posterò in futuro Ciao ancora ragazzi E buona giornata Grazie mille per la visione